Sapevi che esistono ben 9 tipi di fame? Scoprire quale sia la tua ti aiuterà tantissimo a saperla gestire al meglio. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! Moltissime persone non riescono a sopportare le diete o quantomeno ad acquisire delle abitudini alimentari corrette. Ci provano, iniziano, ma ogni volta cadono in tentazione e così abbandonano molto velocemente il loro progetto, rimanendo deluse, demotivate e frustrate. Troppo spesso non si è consapevoli delle proprie sensazioni, non ci si ascolta, si rimane sempre in superficie e si fa tutto in modo molto meccanico. Ma individuare quale sia il tuo tipo di fame ti aiuterà indubbiamente ad acquisire un maggiore equilibrio. I motivi per i quali si inizia a mangiare sono diversi e non sempre coincidono con la fame cellulare, intesa cioè come la reale fame fisiologica, quella indotta dai complessi meccanismi di regolazione del sistema nervoso centrale, deputati ad assicurare la costante riserva di energia all'interno del corpo e quindi la sopravvivenza. I tipi di fame sono ben nove e corrispondono ad altrettante parti del corpo. Conoscerli può aiutarti a diventare molto più consapevole dei tuoi comportamenti e degli automatismi verso il cibo. Dopo scrivimi nei commenti qual è il tuo tipo di fame. Fame degli occhi. Gli occhi rappresentano un canale privilegiato attraverso cui farsi attrarre dal cibo. Per esempio un cibo colorato o molto ben impiattato attrae. Così come spesso basta la vista di un piatto accattivante perché arrivi l'acquolina in bocca. Per soddisfare la fame degli occhi esplora visivamente e molto a lungo un piatto prima di iniziare a mangiarlo. Fame del naso. L'olfatto ha un ruolo molto importante nella scelta di un cibo. Ci sono profumi irresistibili come quelli ad esempio di una pizza appena sfornata o l'aroma del caffè. Ed anche il sapore del cibo inizia a formarsi a partire dal suo odore. Per soddisfare la fame del naso soffermati sull'aroma del cibo prima di iniziare a mangiarlo. Fame delle orecchie. Ci sono suoni che simulano curiosità ed attrattiva nei confronti del cibo. Come lo scrocchiare di una patatina o il rumore sfumeggiante di una bibita fresca versata in un bicchiere. Per soddisfare la fame delle orecchie. Chiudi gli occhi ed ascolta con apertura e curiosità il rumore del cibo mentre lo tocchi o mentre lo mastichi. Fame del tatto. La sensazione che un cibo dà il tatto sfiorandolo con la punta delle dita o appoggiandolo al labbra permette di amplificare l'esperienza sensoriale implicata nel lato di mangiare. Rallenta il passo utilizzando il tatto e aprendoti così alla possibilità di trasformare l'esperienza di mangiare in un momento soddisfacente ed appagante. Fame della bocca. Che gusto hanno i cibi che mangi? Sei sicuro che ti piaccia veramente quel cibo che stai mangiando? Sei certo di quale sia ad esempio la quantità giusta per te di zucchero nel caffè che bevi? Spesso le scelte in termini di gusto sono frutto di abitudini e convenzioni apprese che però possono cambiare nel tempo. Liberati da questi condizionamenti. Impegnati per destrutturarli. Così potrai crearti un'idea tua attuale di ciò che ti piace. Sviluppare una maggiore consapevolezza del gusto dei cibi attraverso una nuova esplorazione gustativa di ciò che mangi ha un fortissimo potere nel soddisfare con piccole quantità di cibo la fame della bocca. Fame dello stomaco. Sebbene ognuno di noi abbia una capacità innata di riconoscere segnali che provengono dallo stomaco può accadere che essi vengono confuse con altre sensazioni che afferiscono a questo organo ma che non sono fame come l'ansia o il nervosismo. Questo perché le emozioni hanno una componente fisiologica che molto spesso coinvolge questo organo. Per riconoscere la fame dello stomaco non rispondere subito con il cibo ogni volta che avverte una sensazione di vuoto o di dolore allo stomaco e mangia solo dopo essere diventato veramente consapevole delle tue sensazioni fisiche. Fame cellulare. È la fame fisiologica. Rappresenta il motivo principale per il quale si mangia. Ma paradossalmente non è così facile da avvertire. Da piccoli eravamo in grado di sentire in modo assolutamente spontaneo e distintivo la necessità di mangiare e di che cosa avessi bisogno il corpo. Col passare del tempo però a causa di condizionamenti esterni può succedere di perdere questa abilità. È quindi necessario riscoprirla, reimparare a mettersi in contatto e a comunicare con il corpo. Attraverso la mindfulness alla quale dedicherò vari video è possibile divenire nuovamente consapevoli di ciò che ha realmente bisogno il corpo così da riuscire a nutrirsi adeguatamente. Fame della mente. Tutti sviluppano nel tempo delle etichette e le applicano al cibo come cibi sani, cibi spazzatura, cibi concessi, cibi proibiti e così via. Queste etichette mediano il rapporto con ciò che mangi e creano relazioni ansiogene con il cibo che spesso poi portano a desiderarlo in modo spasmodico. Siamo costantemente influenzati dalle mode alimentari, dalle diete del momento o dagli ultimi articoli allarmistici in fatto di alimentazione. La mindfulness può aiutare a placare la mente permettendo l'accesso ad una nuova consapevolezza, molto sensibile ai segnali che il corpo manda, aiutandoti così a liberarti dai condizionamenti. Fame del cuore. Molto spesso il tipo e la quantità di cibo che le persone scelgono è connesso alle emozioni provate. Frequentemente la fame nervosa nasconde il desiderio di essere amati o accuditi. Si mangia per riempire un vuoto ma quel vuoto non può essere placato attraverso il cibo, non verrà mai soddisfatto. La fame del cuore in altre parole non ha bisogno di cibo. Se hai fame del cuore il cibo non è la risposta. Anzi ricorrere al cibo fa stare peggio, ti fa sentire in colpa, inadeguato, incapace di cogliere realmente i tuoi bisogni. Come sempre riconoscere ed entrare in contatto con le proprie sensazioni porta ad un livello di consapevolezza decisamente più alto che ci permette di gestire le emozioni non essere gestite da esse. Prenditi del tempo per riflettere sul tuo tipo di fame. Ti assicuro che potrà migliorare la qualità della tua vita. Adamas diventa come un diamante brillante, prezioso ed invincibile. Grazie a tutti.